...tira... ...e si vede anche con questo, devi indire... ...dicisi... ...eco... ...allora, il mio... ...e il mio... ...tira... ...via motore... ...dritto le ali che tira... ...tira, tira, tira, tira... ...eco, adesso... ...bene? ... ... ...allora, abbiamo dato il motore... ...110 km di orari, prima l'aeroplano... ...e la pista qui sotto di nuovo, guarda... ...la vedi la pista? ... ...allora, regolati come lo vuoi fare in giro... ...110 km di quello che ho filmato... ...